eccomi eccomi siamo in diretta siamo dal vivo ragazzi buonasera ciao a tutti eccomi ragazzi benvenuti alla nostra lezione di stasera benvenuti a questa lezione è una bella lezione buonasera buonasera sono molto contento di avervi di avervi qui con me stasera è buonasera lussiane buonasera gisley elisangela buonasera carissima mara marta paolucci valeria ecco 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 ragazzi benvenuti alla nostra lezione di oggi buonasera leila buonasera tutto bene ragazzi mi sentite bene l'audio è buono scrivete per favore nei commenti buonasera ragazzi eccomi ragazzi oggi facciamo una lezione molto particolare facciamo una lezione è importante perché ci sono degli invitati speciali per la nostra lezione di stasera ci sono delle persone che forse non mi conoscono ancora ok quindi scrivete se l'audio è buono scrivete se il video è buono ottimo ragazzi ecco importante prima di iniziare voglio sapere voglio sapere una cosa chi è studente di italiano facile chi è studente di italiano facile può scrivere così o hashtag si dice in italiano hashtag squadra squadra if chi è studente scrive squadra if squadra if solo per sapere buonasera 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 carlos buonasera vera carissimo john marcello leomara ok molti studenti con noi buonasera carissima paola tutto bene ecco ragazzi oggi parleremo di un argomento ormai molto importante è importantissimo che riguarda ovviamente essere fluente quindi avere un buon livello di italiano essere capace di parlare essere capace di comunicare con gli italiani va bene ma prima di andare avanti vi faccio una domanda semplice tu di dove sei di dove sei e che lavoro fai voglio sapere la tua città e voglio sapere qual è il tuo mestiere quindi tu di dove sei quindi vai città e mestiere quindi città e mestiere per chi non non lo sa mestiere e mestiere significa lavoro d'accordo quindi lavoro ok quindi persone un po dappertutto san paolo ovviamente buonasera vanda ok va bene quindi è solo per solo per presentarci no quindi sono ronaldo e sono insegnante di italiano sono ronaldo e sono insegnante di italiano ok oppure sono un insegnante di italiano sarebbe meglio sono un insegnante di italiano ok perfetto allora ragazzi che tempo fa da voi nella nella mia città è un po è un po freddo oggi devo dire e c'è anche un ciclone c'è anche un ciclone ecco in italia la temperatura è ottima ma in brasile so che le temperature iniziano ad abbassare un po giusto ok buonasera Jennifer tutto ok tutto bene va bene non fa freddo né caldo quindi la temperatura è buona ottimo 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 quindi ragazzi andiamo avanti con la nostra prima frase di stasera possiamo anche fare un esercizio di pronuncia o ascolta e ripeti con me ripeti per praticare la pronuncia vai il segreto è imparare come un bambino il segreto è imparare come un bambino vai ottimo il segreto è imparare come un bambino ottimo il segreto è imparare come un bambino ovviamente eh ovviamente parleremo di tecniche strategie di cose che possiamo usare ogni giorno per migliorare il nostro livello di italiano so che molti di voi molti di voi avete già un buonissimo livello e ovviamente è una questione di pratica una questione di consistenza quindi questa è la prima frase facile o difficile facile o difficile questa frase dai ditemi il segreto è imparare come un bambino facile o difficile vediamo questa è una frase ormai tranquilla sì siamo già rientrati in Brasile per fortuna o no eh non so ottimo allora per capire meglio come usare per iniziare appunto la nostra conversazione di stasera perché ormai è una lezione questa ormai è una lezione di conversazione no facciamo delle pratiche di usando il parlato quindi qual è la tua parola italiana preferita e mi raccomando molti studenti fanno questo errore dicono qual è qual è no qual è qual è come fosse una sola parola ok quindi vai qual è qual è qual è la tua parola italiana preferita scrivi qua mi raccomando mi raccomando usando sempre la forma completa la mia parola italiana preferita è la mia parola italiana preferita è italiana preferita è vai la mia parola italiana preferita è mangiare pizza birra musica nuvole amicizia abbastanza ottimo giusto ok ecco sì ecco è una parola 100% italiana ecco perfetto ragazzi oggi parleremo anche delle vostre difficoltà va bene quindi scrivete qua qual è la tua difficoltà più grande nell'imparare l'italiano quando parliamo di imparare l'italiano qual è la tua difficoltà più grande cosa non riesci a fare prof per esempio non riesco a non lo so memorizzare le parole non riesco a capire il verbo andare non riesco a qual è la tua difficoltà più grande ottimo perfetto ok ragazzi facciamo una cosa va bene facciamo un breve pariettese qui per la gente poter com a pe direto la nostra aula di oggi già Quindi andiamo avanti con un altro esercizio. Ovviamente la mia parola preferita è come pronunciare, come pronunciare questa parola. Momento, 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 sfida di pronuncia, desafio di pronuncia. Come pronunciare questa parola? Che è una parola un po' non difficile, però strana. È una parola un po' strana, però non preoccupatevi perché riusciremo a pronunciarla. Questa, questa, o questa parola si dice in italiano, attenzione. Scherzare, scherzare, scherzare. Ripeti con me per praticare la pronuncia, vai. Scherzare, scherzare. Ma cosa significa questa parola, prof? Cosa significa scherzare? Scherzare significa giocare, eh? Fare una, un gioco, brincar, zuar. Ok? Quindi, no, sto scherzando, eh? È una brincadeira. La mia parola italiana preferita non è scherzare, è un'altra. La mia parola italiana preferita è mangiare. Mangiare, certamente. Ci mancherebbe, ovviamente. Quindi la mia parola italiana preferita è mangiare. Però, prof, prof, una cosa. A questo verbo qua, della foto, non è mangiare. E che verbo è questo? Qual è questo verbo? Vediamo se riuscite, vediamo se riuscite a capire, se sapete qual è questo verbo. Qual è questo verbo qua? Importante, eh? Esattamente, bravissimi. Questo è il verbo bere, bere, verbo bere. Quindi, momento vocabolario, impariamo una nuova parola. Bere, bere. Quindi, il verbo bere. Ok? Per esempio, posso farti una domanda. Cosa ti piace bere? Cosa ti piace bere? Vai, rispondi per favore. Cosa ti piace bere? Cosa ti piace bere? Mi piace bere l'acqua. Mi piace bere l'acqua. E a te? Cosa piace bere? Mi piace bere il vino. Ok? Quindi, ragazzi, questo è un esercizio di creazione di frasi. Ok? Comunicazione. Mi piace bere il vino. Come fosse un dialogo, eh? Immaginiamo due amici italiani e uno chiede all'altro, ma cosa ti piace bere? No? Dois amigos italianos. Un pergunta pro outro. Cosa ti piace bere? E l'altro risponde, ah, mi piace bere la birra. Mi piace bere il caffè. Mi piace bere l'aperol spritz. Ok? Quindi, questo non è il verbo bere. No, non è il verbo mangiare. È il verbo bere. Ok? Ottimo. Perfetto. Facciamo una veloce, un gioco. Facciamo un gioco molto, molto, molto tranquillo. E devi indovinare. Scrivi qua. Facciamo un esercizio d'ascolto. Vai. Indovinare. Scrivi questa parola. Indovinare. Indovinare. Indovinare significa... Ecco. Adivinare. Indovinare. Vai, scrivi qua. E allora? Indovinare. Dovete indovinare dove è stata scattata questa foto. Dov'è stata scattata questa foto? Dov'è, secondo voi? In quale città? Quale città è stata scattata? Olha quanto vocabolario, olha quantas expressões novas a gente vai aprendendo. Até agora, 15 minutinhos de aula, contando con la nostra introduzione. Allora, Roma. No, non è Roma. Non è Firenze. Firenze è la nostra città. Però non è Firenze. Brava Regiane. È Milano. È Milano. Questa è stata scattata a Milano. Va bene? Ok, ragazzi. Allora. Forza. E fino a questo momento va tutto bene? Mi capite? Tutto tranquillo? Ragazzi, vi devo dire che nella mia zona, nella zona dove sono adesso, danno un ciclone. La previsione meteo ha detto che ci sarebbe un ciclone oggi. Quindi non so se ci sarà connessione fino alla fine della lezione. Ok? Nós tivemos muitos relatórios da defesa civil, inclusive, falando a respeito de un ciclone che può stare se aproximando qui. Quindi, se acontecer qualcosa, per questo che io sto perguntando, e io sempre pergunto durante le aulas, se vocês estão me entendendo, per che io possa proseguire sem nenhuma duvida. Va bene? Buonasera. Buonasera. Leo Vigilda, Carlos, Francisco, Bernadette. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi. Scriviamo cinque verbi importanti in italiano. Dai. Scriviamo cinque verbi importanti in italiano. Enquanto vocês escrevem aí, fazer esse desafio, eu vou pegar uma água aqui. Un secondo. E sono tornato. Cinque verbi importanti in italiano. Mangiare, bere, amare, cantare, parlare. Ce ne sono tanti, no? Ce ne sono tanti verbi importanti. Ok. Oggi praticheremo. Lavoreremo con questi verbi. Con alcuni verbi importantissimi. Va bene? Ecco. Per esempio, posso scrivere qua, vai. Cinque verbi importanti. Andare, certamente fare, no? Andare, fare. Posso dire anche mangiare. La mia parola italiana preferita. E anche il verbo italiano più importante. Mangiare, cos'altro? Cos'altro? Vai, forza. E vai, forza. Fare. Ho già scritto. Parlare. Essere. No? Cinque verbi importanti. Ragazzi, questa classifica non importa. È una cosa, solo un gioco. Ok? Solo per vedere se siete bravi a individuare, scegliere cinque verbi. Ok? È sempre utile lavorare. È sempre utile fare questo tipo di ragionamento. Quindi cercare dei verbi. Cercare a ricordare alcuni verbi. Quindi, prossimo esercizio. E questa è un'attività interessantissima. Tra poco useremo i verbi, eh? Daqui a pochino a gente vai a usare questi verbi. Muitos vocês colocarono aí. E alguns eu separei. Daqui a pochino a gente vai a usare le perguntas interessantes. Ok? Quindi, forza. Come, come iniziare un dialogo con un amico italiano? Tu hai un amico italiano? Sì o no? Io so che alcuni di voi, so che alcuni di voi, hanno, ecco, alcuni di voi avete, insomma, amici italiani. Hai un amico italiano? Sì? No? Più o meno? Però, Ronaldo, come posso iniziare un dialogo con un amico? Quando dico, ok, i soliti saluti, per esempio, buongiorno, vabbè, ciao. Buongiorno, oppure ciao. O tutto bene. Queste cose sono tranquille. Giusto? Tutto bene. Come stai? Come va? Questo è facile. Però oggi vediamo delle domande particolari. Delle domande che usiamo nel quotidiano. Usiamo quando parliamo con un amico italiano. Oggi io quero apresentare perguntas di verità. Perguntas che noi realmente utilizziamo. Quando? Quando, né, vocês sabem, a gente, até semana passada, estava com os nossos alunos na cidade di Firenze, acompanhando em um, no Experienzia Italiana. Depois eu vou comentar um pouquinho a respeito. E é claro que quando eu estou falando com os professores, né, quando eu estou falando com os meus amigos italianos, quando eu estou falando com a Giada, quando eu estou falando com a Marta, quando eu estou falando com a Cláudia, que deu aula ontem, né? Quem assistiu a aula ao vivo da Cláudia ontem? Eu não falo sempre tchau, tutto bene, nanana, eu uso outras perguntas, ok? E isso é algo que dificilmente o professor compartilha, porque o professor quer ensinar a regra. Ele acaba não ensinando o italiano, né, do dia a dia. Então vamos lá. Como iniciar um dialogo com um amigo italiano? Prima domanda é esta. Cosa mi racconti de bello? Cosa mi racconti de bello? Cosa mi racconti de bello? Ecco. Quindi vai, facciamo questa pratica di pronuncia. Cosa mi racconti de bello? Cosa mi racconti de bello? Dai. Cosa mi racconti de bello? 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 Ok. Ragazzi, importante, eh? Importante. E, pra quem não sabe, essa prática de pronúncia que eu faço é pra estimular o aluno a realmente praticar durante a aula. Porque muitos de vocês, talvez quem não é aluno, tenha esse problema. As pessoas entendem, mas elas não conseguem falar. Você conhece alguém assim? É, professor, eu até consigo entender, eu entendo o que falam, mas eu não consigo falar, né? E isso é um problema que é patológico. E a gente trabalha isso, inclusive eu falo sobre isso nesse livro aqui, que é o livro que eu lancei no ano passado, no nosso encontro em São Paulo. É, encontro pra mais de 200 pessoas. E eu falo isso nesse livro, transformar compreensão em comunicação. Então, a gente faz esse exercício da pronúncia pra desbloquear a fala, perder o medo de falar, melhorar a pronúncia, se acostumar com a língua, óbvio, e é claro, por fim, né? Por consequência, melhorar a comunicação e falar italiano. Então, cosa mi raconte di bello? Ecco. Ok, ó, olha o que a Débora falou ali, né? Eu sou assim, leio, entendo, mas não falo. Então, é isso que a gente faz aqui, né? Com as aulas ao vivo toda semana, nós temos, né, 5 aulas ao vivo. Então, exatamente isso. Perfeito. E allora, ok, cosa mi racconti di bello? Ah, sono molto contento, perché nananana, ótimo. Seconda domanda, cosa fai di bello? Cosa fai di bello? Cosa fai di bello? Cosa fai di bello? E allora, forza, cosa fai di bello? Essa que você só responde, como é que você responde a essa pergunta? Imagina que eu, prof. Ronaldo, mando uma mensagem para você, Gimane, dizendo assim, Ehi, buongiorno! Come va? Cosa fai di bello? Vai, cosa fai di bello? Forza, vediamo, vediamo, vediamo. Ottimo, brava Marta, in questo momento, guardo questa lezione meravigliosa. Esatto. Quindi, sto studiando italiano, sto praticando italiano, sto guardando una lezione, oppure sto bevendo un tè o un caffè mentre guardo la lezione. Ottimo, prendo un caffè. Faccio un corso meraviglioso. Brava, Franzi Cleide. Franzi Leide. Sempre sbaglio questo nome. Quindi, cosa fai di bello? Prossima. E questo è molto interessante, usando il passato prossimo, eh. Cosa hai fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? No, ieri ho fatto, ho guardato una lezione di italiano. Ieri sono andato in palestra, ho cucinato, ho guardato un film, ho studiato un po'. Ieri ho lavorato tanto, possiamo e dobbiamo usare il passato prossimo, quindi ieri ho viaggiato, brava stella. Cosa hai fatto ieri? Che è che a gente sempre fa, no começo, né, di un dialogo normal. Quindi, cosa hai fatto ieri? Ok, numero quattro. Forza, andiamo avanti. E allora? E allora? Quindi, e allora è molto interessante, perché stai parlando con la persona e dici, e allora? Ieri, 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 e allora questa sarebbe un po' troppo informale. Anzi, tutte queste sono informali, eh. Queste domande vengono usate tra amici, persone che si conoscono, va bene? Che hanno un rapporto di amicizia. E allora? E allora? Questa è facile. E la numero cinque, come vanno le cose? Come vanno le cose? Come vanno le cose? Ecco, come vanno le cose? Fommo che fissassi in qua. Primera, cosa mi racconti di bello? Cosa fai di bello? Cosa hai fatto ieri? E allora? Come vanno le cose? Ok. Ragazzi, qual è la vostra forma, la vostra domanda preferita? Qual è la vostra domanda preferita? Vediamo. Oh, qual è la vostra domanda preferita? Tra poco faremo un'attività di ascolto, eh. Un'attività molto interessante di ascolto. Ah, questa è quella che uso di più. Come vanno le cose? Bravo, Doni. Ottimo. La prima, Rosalia. Correttissimo. Perfetto. Ok. Ragazzi, io sei che c'è un'attività qui che sono di varieze turma, ma c'è un'attività che ha come un'attività che ha come un'attività di ascolto questo anno? N'attività di fevereiro o'attività di abril? So, per lo sapere se c'è un'attività di ascolto questo anno, ma c'è un'attività di fevereiro o abril? Ottimo. Ragazzi, allora, vi ricordate dei verbi che abbiamo visto all'inizio della nostra lezione? I cinque verbi importanti? Ecco, molti studenti, eh, del gruppo di febbraio e del gruppo di aprile. Ottimo. Ragazzi, adesso faremo un esercizio di creazione di domande, quindi è importantissimo in italiano saper creare domande. Se io non riesco a parlare è perché non ho lo stimolo per parlare. È importante avere uno stimolo e questo stimolo è, appunto, una domanda. Può essere una domanda, può essere una, cioè, una discussione, però partiamo dalle domande, naturalmente, ok? Quindi, basicamente, a gente precisa di un stimolo per parlare, né? A gente precisa ter un incentivo e esse incentivo, o che fa con che noi tenhiamo a vontade di parlare e sabere o che parlare, può partire di una domanda, può partire di una discussione, può partire di una domanda propria, ma per che io tenhiamo questa ignição, a gente va utilizzare le domande. Tanto è che, nel final del aula, se sobrer tempo, io vorrei usar il barallo principiante, il barallo che che ti ha nella plataforma, in formato digital, con le cartelle, io vorrei qui e vorrei mostrar per voi. Allora, ragazzi, modelos di perguntas, voi potete utilizzare, qui io vorrei lasciare cinque modelos, queste sono expressi chiave per che voi possano creare perguntas todos os dias. Sono espressioni che voi potete usare per sempre. Va bene? Facciamo una cosa. Leggiamo insieme queste cinque espressioni. Vai. Ti piace? Che cosa preferisci? o quando dove quindi è importante anche l'intonazione, ok? Quindi ti piace? Che cosa preferisci? o quando dove ok, perfetto. ovviamente praticheremo con degli esempi. Per esempio, posso naturalmente chiedere ad una persona ti piace andare al parco? Ti piace andare al parco? Facciamo la pratica di pronuncia di questa domanda. Ti piace? Ti piace? Ti piace andare al parco? Ti piace andare al parco? Ti piace andare al parco? Bella, no? E molto tranquilla. Ora abbiamo una sfida. Voglio ora vedremo se siete bravi. Agora a gente vai a fare un match vi dà un desafio di escuta perché per cada pergunte esiste o che? Cosa abbiamo dopo una domanda? abbiamo la scrivete qua abbiamo la ecco vediamo 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 abbiamo la ris la risposta correttissimo o io vi mettiamo giù giù una risposta risposta per questa pergunte va bene? e a gente vai ouvire algumas vezes claro para poder entender e rispondere qui o che a pessoa rispondeu 3 2 1 vai maestro è mi piace andare al parco perché è un modo di staccare dal lavoro mi piace andare al parco perché è un modo di staccare dal lavoro Ok, va bene. Allora, riuscite, riuscite a scrivere questa risposta? Cosa ha risposto la ragazza? Vai, di nuovo, un'altra volta, vai maestro! Mi piace andare al parco perché è un modo di staccare dal lavoro. Vediamo, mi piace, cosa ha detto lei? Mi piace andare al parco perché è un modo di... No, ma siete bravissimi, siete bravissimi. Che orgoglio, ragazzi! E olha che temi molti alunni qui, di febrero, di abril, che stanno rispondendo certinho. Complimenti, parabéns per gli alunni italiani facili. Allora, vai, oh, mi piace andare al parco perché è un modo di staccare dal lavoro. Ma, prof, momento vocabolario, cosa significa staccare? Cosa significa staccare? Staccare è un verbo importantissimo in italiano, cioè molto usato, non è un verbo di base, è un verbo di livello intermedio, forse avanzato, direi, ma staccare intermedio, dai. Staccare significa despegar, desconectar, né? Desligar, quindi staccare dal lavoro. Correttissimo, correttissimo, quindi mi piace andare al parco perché è un modo di staccare dal lavoro. Ok? Anotem qui, chi mi stia facendo la notazione, va a notare questa parla, va a notare chiaramente staccare, che è la parla nuova che a gente sta conoscendo, e va a notare anche la parla perché, 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 ok? E poi io vorrei explicare la parla, va bene? Andiamo alla prossima domanda, andiamo alla prossima domanda, ragazzi. Ricordiamo che, oh, lembrando che io vorrei fare perguntas usando queste qui, oh. Io sto mostrando formas di creare la domanda, o cioè, mostrei a struttura, mostrei un esempio di domanda, mostrei un modello di risposta, e a gente sta aprendendo con tutte queste etapie. O importante è la creatività, va bene? Io dico sempre, e vamos vedere se ancora ci sono, oh, ci sono ancora alcuni assistendo a la che io sto vedo, quanti persone hanno con noi ora? Ok, 160 persone. Pessoal, ci sono alcuni che non è aluno che sta assistendo a la? Se c'è alcuni che non è aluno, sta vedendo che la aula è cheia di exercici, non è quella aula che generalmente a gente vê, che il professor fica là, blà, 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 falando, falando, e a gente si perde, né? Perché, meu Deus, è tanta informazione, e il aluno non participa nunca, anche parecchè che la è gravata. Qui non, né? Quindi, olha só. Importante, importante. Va benissimo, perfetto. Pessoal, stanno me ouvindo bene? O pessoal disse che c'è problema no microfone? Por favor, me digam se stanno me ouvindo bene? Va bene? Allora. Si, tutto ok? O pessoal stanno me ouvindo bene, então, acho che... Luciano, dà una verificata se non è un problema... Algum problema aí no áudio. Ok? Ragazzi, forza. O prossima domanda. Vamos via a prossima, então. Numero 2, sta... O che cosa... Che cosa mangia a colazione? Sempre... Pronuncia. Che cosa mangia a colazione? Che cosa mangia a colazione? Dai. Pronuncia. Che cosa mangia a colazione? Che cosa mangia a colazione? Quindi, che cosa mangia a colazione? E allora? Ó. Ascolteamo. Olha que... Gente, esse exercício é muito legal. Eu peguei uma estrutura e, ao invés de eu fazer, assim, cinco perguntas do dia a dia e botar a resposta e ficar repetindo, né? Igual papagaio. Eu fiz você ouvir um outro professor nativo, que é a Claudia, né? Os alunos que prestaram atenção já viram que é a ela. Vamos lá. Vamos para a segunda. Vai, Claudina! A colazione, mangio delle fette biscottate con delle uova strapazzate, perché non mi piace la colazione dolce. A colazione, mangio delle fette biscottate con delle uova strapazzate, perché non mi piace la colazione dolce. Ok, e allora? Che cosa mangia a colazione? Che cosa ha detto lei? Eh? Che cosa ha detto lei? Vediamo se riuscite. Ok, bravissima Valeria. A colazione, mangio delle... Ah, a colazione, vai, di nuovo maestro, forza! A colazione, mangio delle fette biscottate con delle uova strapazzate, perché non mi piace la colazione dolce. Ottimo, quindi, a colazione, mangio delle fette biscottate, quindi delle fette biscottate. Vai! Fette biscottate. Fette biscottate. Fette biscottate sono aquelas torradinhas, aquella torradinha che você tem. No Brasil tem una marca molto famosa, che è un pacote amarello. Unas torradinhas quadradas, ela quebra quando você, né, aperta ela. Isso é uma feta biscottata. No plural, fette, fette, na verdade é fe, é um f, é um f eshado. Fette biscottate. Correttissimo. Vai, forza, ecco la risposta. A colazione, mangio delle fette biscottate con delle uova strapazzate. Uova strapazzate ovus mecidus, perché non mi piace la colazione dolce. Non mi piace la colazione dolce. D'accordo? Ecco. Perfetto. Esattamente. Ragazzi, importante. Parole utili. A colazione, ovviamente, fette biscottate, uova strapazzate e non mi piace, quindi colazione dolce. Cose semplici, però, una frase non tanto, una frase non tanto, una frase semplice, però non tanto semplice, perché è una frase lunga, ok? L'importante è creare, quindi creare una frase piccola e poi aggiungere pian piano altri elementi, altre parole, va bene? Forza numero tre. E questa la puoi rispondere, vai, a sé chi vuoi rispondere a me. Preferisci il vino o la birra? E perché? Preferisci il vino o la birra? E perché? Vai, dimmi, dimmi, dimmi. Preferisci il vino o la birra? Ecco. Esattamente, Carlos Edoardo, uova strapazzate sono uovus mescidus, ne? Aquellis is scrambled eggs. Scrambled eggs, no inglês. Preferisco il vino, preferisco la birra, e perché? Esse perché, esse perché, aqui, ele nos permite explorare più la comunicazione. Vamos ouvir o che che ela falou? Vamos lá. Vai, Claudina, forza! Preferisco il vino perché è più sano rispetto alle altre bevande. Preferisco il vino perché è più sano rispetto alle altre bevande. Preferisco il vino perché è più sano rispetto alle altre bevande. E allora, cosa ha detto? Lei preferisce il vino o preferisce la birra? Preferisco il vino perché è più sano rispetto alle altre bevande. Ok? Anche questa è una risposta molto utile, molto bella, interessante. Quindi preferisco il vino perché è più sano rispetto alle altre bevande. Ottimo. Ragazzi, tutto ok? Tutto tranquillo? Dite-mi, per favore, se avete qualche domanda, por favor, escrevam nos comentários, principalmente quem non è aluno. No final da aula io ho una notizia, un buon recado per chi non è aluno. E, chiaro, se stai gustando da aula, non esquece di lasciare il like, è importantissimo. A gente gosta di fare alcuni aulas aberti e questa è una aula di nostro corso completo, né? Questa è una aula di nostro programma di fluenza, do zero al avanzato, il corso completo di Italiano Fácil. Certo che, ogni settimana, noi abbiamo cinque aulas al vivo. Quindi, questa ho ho deciso di liberare per voi accompagnare. Va bene? Perfetto, Conceição. Ok, va bene, ragazzi. Vai, facciamo una cosa. Eu quero explicar, parliamo un po' delle tecniche. Quando falo técnicas, técnicas, as pessoas acham que são coisas mirabolantes, surpreendentes. E, na verdade, os alunos di Italiano Fácil già sabem che existem hábitos diarios que eu posso fazer, que eu posso ter, pra melhorar a mia comunicação, pra me tornar fluente, no? Mas, aqui, eu quero tratar dessas quatro expressões, palavras, que se tornam sim técnicas, né? Então, quando eu tenho uma frase, por exemplo, mi piace il vino, mi piace la birra, Como é que eu faço pra ir além, como é que eu faço pra melhorar, como é que eu faço pra realmente incrementar a mia comunicação e sair daquele básico, né? Ó, a primeira coisa é, perqué? O perqué é, justamente, é quando eu estou permitindo dar uma explicação. Quando eu dou uma explicação do porquê, eu preciso encontrar palavras novas. Eu preciso encontrar, realmente, expressões pra dar uma explicação plausível, como a Cláudia fez aqui, né? Na nossa, na nossa, na nossa, exemplo atrás, né? Preferisci o vino ou a birra? E porquê? Porque é mais sano rispetto às outras bevadas. Niente de complicado, né? Niente de difícil, é uma coisa tranquila, ok? Então, a primeira técnica é porquê. Quando você achar que pode, tá, e agora, o que que eu faço? Perqué? Pergunte, faz o perqué. Pergunte a si mesmo, perqué? E responda. Você vai ter um estímulo pra poder praticar. Quando eu quiser dar uma opinião contrária, eu vou usar a segunda, olha só. É vero. É vero. Però? É vero. Però? É... Guarda, l'Italia é um país belíssimo. É vero. É vero. anche il Brasile é molto bello. Guardate com'è interessante usare questo, é vero. Però, non quer dizer que eu seja uma pessoa que discorde di tudo. Não, eu estou simplesmente dando uma opinião, né? Não necessariamente contrária, ou pode ser até adiuntiva, né? Pode ser adicional. não, por exemplo. Mamma mia, não me piace la piogia. Não me piace la piogia. Nemmeno eu amo la piogia. Però, però, l'importância é que eu però, né? Eu estou dando um mas. Però, na, na, na. Va bene, prossima. Non so, ma. Vediamo un esempio. Prof, domani, domani di selezione. Non so, ma. Penso di sì. Non so, ma. Possiamo controllare. Non so se selezione. Non lo so, né? Estaria até mais apropriado se nós colocássemos non lo so. Coloca aqui no nosso bloco de anotações. Non lo so, ma. Possiamo controllare. Ou seja, mais um símbolo para incrementar a comunicação. Secondo me, e questa é uma coisa interessante, ragazzi, é bellíssimo usare secondo me. É um modo de esprimere la vostra opinión. Secondo me, questa lezione é meravigliosa. Giusto? Secondo me, questa lezione é fantastica. Ok? Criei uma frase com secondo me. coloquem aí, por favor. Vamos creáre essa frase. Secondo me, dê minha opinião de vocês a respeito de alguma coisa. Vediamo i commenti. Mentre create le vostre domande, le vostre fras, scusa, eu leggo un po' i commenti. Allora, Renata, interessante, se usar penso o que, aí, eu vou ficar entre aspas, uma sinuca de bico, porque eu vou ter que usar o conjuntivo. Então, para eu não ter que pensar no conjuntivo nesse momento, claro, que os alunos mais avançados aqui já sabem essa estrutura. ma per chi è iniziante io non mi consiglio di usare penso che perché io ho dovuto usare il congiuntivo va bene? come per esempio non posso dire penso che penso che è una bella idea no penso che sia una bella idea questo introncamento anche una pronuncia fica differente una bella idea ok? ma questo è un assunto per outra aula oggi a gente non va a entrare perché l'aula è iniziante va bene? secondo me Roma è una città fantastica è una città storica perfetto che orgoglio ragazzi che orgoglio della vostra frase veramente sono contentissimo ok vamos fare una cosa momento perguntas io voglio tirare le domande le domande lembra la no começo che io abri quel espaço per sapere quali erano le domande le domande che ci sono per la nostra settimana da retomata italiana 2.0 una settimana enteira di aulas all vivo junto con me, con altri professori di italiano facile la retomata italiana va a essere un evento che va a fare você emergir nella cultura della Italia va a acontecer di 6 a 10 di junio você va a poter partecipare junto con noi quindi chi non è aluno è la opportunità di voi conoscere la nostra equipe di voi conoscere come os alunos saem do zero até a fluenza con la nostra metodologia di imersione va bene? quindi amanhã fiquem di ovo la nei gruppi di whatsapp fiquem di ovo la no instagram per voi garantire una delle vagate ok? allora preposizione inclusive a Marta fez una aula molto legal di preposizione a umas 3 semanas atrás e là no nosso na plataforma tem 13 aulas da Luisa che ela gravou sobre preposições que tá ó tá maravilhoso ok? non avrei voluto essere il primo della classe avrei voluto è un condizionale composto Carlos questo è un condizionale composto avrei avrei voluto eh ecco ok come allora vediamo una cosa vediamo una cosa grazie Jennifer ho scelto il migliore corso di italiano di tutti grazie di cuore Jennifer se io non mi engano è una das alunas che vai con a gente per l'Italia in settembre inclusive turmas fechadas per settembre io vorrei parlare per l'Italia leila certamente si il tuo caffè è già arrivato eh tra poco sarà da te ecco pessoal vamos lá io io per ora da un ricato per quem è aluno di italiano facile è perché noi acabiamo di finalizzare con molto sucesso una turma maravilhosa di esperienza italiana un programma di formazione un programma avanzato inclusive io quero contar qui di tutti os alunos che sono chiaramente os nivei sono diferentes non non precisa estar todo mundo no mesmo nivel ma io ho molto orgullo in dire che due delle alunas chegarano alunas più avanzato na scola na Italia ó vou repetir tá una scola internacional che recebe alunos do mundo todo instituto né de lingua e cultura as nossas alunas chegaram lá e foram para o nível mais alto isso não tem isso por si só já não tem preço já faz a gente sentir orgulho né do trabalho que a gente faz e ter a certeza do que o que a gente faz aqui funciona muito e eu não tô mentindo né porque é Renata Vilaverde não sei se a Renata tá assistindo e a Elaine Tomé as duas chegaram lá no nível B2 C1 muito muito feliz e agora a gente tá abrindo né para os alunos do italiano fácil nós faremos uma reunião explicativa essa é uma reunião que acontece comigo e com o resto da equipe do experiência e a gente explica todos os detalhes tá pessoal muito importante vocês lembram a última vez que vocês conversaram com o suporte ao aluno pelo whatsapp né que tem o o celular vocês conseguem conversar direto pelo whatsapp né não é aquele suporte por e-mail isso vocês já sabem mas vocês se lembram de conversar com o suporte porque o suporte todo mês ele entra em contato individualmente com cada um de vocês né ele entra em contato por vários assuntos pode ser em relação a plataforma suporte pode ser em relação a alguma dúvida tá então pessoal é importantíssimo quando o suporte conversa com vocês é importante que vocês respondam e que vocês nunca arquivem tá o é o o contato do suporte tá por quê porque a gente passa informações importantes nos últimos dias nós entramos em contato com vários alunos pra poder passar algumas informações importantes va bene perfeito regate-se em relação ao valor né do programa essas informações nós não passamos mesmo tá tá certo assim mesmo tá Elane que bom que eles não falaram se você já soubesse o valor eu ia ter que conversar com o pessoal aqui por quê porque essas informações elas são passadas diretamente por mim tá porque eu vou junto com os alunos então eu explico tudo do começo até a entrega do certificado pego o aluno de volta levo ele para o aeroporto levo ele para a estação tá então não é intercâmbio não é matrículas abertas lembrando que é só para alunos tá perfeito que legal vera sempre procura eles são muito simpáticos que legal allora ragazzi fatia monacosa agora então a gente está avisando lá nos grupos a respeito do experiência italiana outra novidade que essa aqui é muito legal quem é de São Paulo escreve aí São Paulo quem é da cidade de São Paulo em julho nós estaremos na capital paulista fazendo um evento tá fazendo um evento exclusivo para os nossos alunos e esse é um evento que é uma verdadeira imersão presencial tá não é palestra não é apresentação não é seminário não é uma imersão de mais de oito horas de prática conteúdo conversação tá claramente vocês sabem já devem ter pesquisado o preço de uma hora particular tá a equipe do italiano fácil sai toda das nossas casas e vai para São Paulo fazer um evento nesse padrão aqui que vocês estão vendo é claro que esse aqui foi para muitas pessoas porque tinham não alunos também mas esse é só para alunos e nós só temos 30 vagas tá só teremos 30 vagas então é uma experiência você vai estar investindo tá na sua formação tem algum aluno que já foi tá em algum lugar pode o pessoal de Floripa pode ir o pessoal de Santa Catarina pode ir o pessoal do Rio pode ir inclusive tem alunos do Rio que foram no último que nós fizemos ano passado tá gente esse é o primeiro evento que nós estamos fazendo esse ano e não são muitas vagas inclusive nós já temos 10 participantes que já confirmaram então na verdade agora só tem 20 vagas é isso mesmo suporte são 10 tá é 10 já confirmaram então nós temos mais 20 vagas tá perfeito a Daiane tá acompanhando Daiane anota por favor da Sueli tá Ana Lúcia Zacarias pessoal quem já olha a Roseli que legal já foi maravilhoso a Wanda Lima tá confirmada tá gente o evento em São Paulo é é algo único só quem vai para entender que é algo realmente excepcional Sueli também eu já fui adorei a Sueli foi do Rio de Janeiro que legal pessoal por favor mandem mensagem para o suporte tá a gente está com olha o evento deixa eu falar para vocês o que nós temos no evento aqui para vocês verem tá deixa eu pegar aqui peraí 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 olha só tá vai ter obviamente né são mais de oito horas de atividades com os professores italiano fácil grupos de clube de conversação vai ter lá aula de conversação almoço porque a gente fica o dia inteiro né nesse hotel a gente vai ter uma degustação de vinhos também um kit exclusivo que é um kit muito carinhoso que a gente dá para os participantes do evento em São Paulo é coffee break também tá e claramente todas as atividades toda a nossa acolhência todo o nosso carinho para os alunos lá esse vai ser de um dia tá esse vai ser de apenas um dia quem sabe no segundo quem sabe no segundo no segundo semestre nós tenhamos mais um evento eu vi uma pergunta aqui da Conceição eu acho que foi tem evento em junho na Itália Conceição não tem evento em junho na Itália porque junho na Itália é muito quente mas é muito quente mesmo 36 37 graus aí não dá para aproveitar porque o pessoal o cérebro derrete então a gente vai fazer a próxima turma já temos turmas fechadas em setembro e outubro tá bem né Rosimeire sobre o valor de São Paulo e a data e o local a gente está avisando tudo no privado tá bem né São Paulo é dia 16 de julho ok pessoal então vamos lá dúvidas 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 por que somente 20 lugares porque dessa vez o evento é bem exclusivo tá na verdade são 30 alunos 10 já confirmaram tá ragazzi dúvidas vamos lá que belo que belo quando vocês são sou de São Paulo passando uma temporada em Portugal em breve sigo para a Itália aproveite muito a viagem com certeza vai gostar bastante ótimo ragazzi força dois minutinhos para tirar as dúvidas de vocês Carol Daiane coloca o nome da Carol também Carol qual é o número da sua turma só para eu poder saber aqui pode colocar aí nos comentários Débora vou em outubro para a Itália como é o clima lá outubro começa né entrar o outono então a temperatura já começa a baixar aí depende do local mas as temperaturas aí vão de 10 a 15 graus talvez um pouquinho mais né 17 20 enfim com certeza Rosemary quem faz aula online é mais do que convidado vocês são os nossos convidados para São Paulo tá Eliane com certeza é um evento para todos os níveis principalmente quem é iniciante então o evento ele tem atividades para todo mundo mas a gente tem enfim direcionado para todo mundo tá bem né Leila o pessoal do suporte informa tudo direitinho no privado tá pessoal o número da turma de vocês está no grupo de whatsapp então no grupo de whatsapp vocês conseguem ver a turma ali tá pessoal a turma do programa na Itália é outubro na verdade não é setembro setembro ainda está quente demais vai bem né isso manda mensagem para o suporte tá é Débora Spirandelli Débora você é nossa aluna de qual turma Angélica Sartori com certeza Angélica você já está na nossa lista para ir no evento Daiane Angélica também Angélica já é aluna egressa de eventos presenciais tem prioridade inclusive para ir va bene ragazzi eu gostaria muito de continuar aqui a noite inteira conversando com vocês tá e São Paulo para alunos então olha é um evento único realmente incrível é só para alunos é um evento bem exclusivo focado na comunicação e espero ver todo mundo de São Paulo lá d'accordo quem gostou da aula não esquece de deixar o like aqui embaixo e a gente segue amanhã tem aula da Marta 20 horas também a Marta vai fazer uma aula muito legal d'accordo grazie Anna Cristina pessoal quem quer aprender italiano ainda não é aluno olha amanhã você vai ter a possibilidade de entrar no grupo de whatsapp para participar da retomada italiana 2.0 segunda versão para você aprender italiano de uma vez por todas fazer parte dessa família aqui tá então você tem que ver com calma estudar sozinho é bom mas estudar acompanhado é muito melhor olha os alunos aqui olha o pessoal louco para ir para São Paulo ver a gente então por isso você já vê o comprometimento a qualidade você já vê realmente o interesse que a gente tem a ajudar os nossos alunos fazer live no youtube todo mundo faz agora fazer um trabalho sério um acompanhamento individual ter um suporte que ajuda os alunos aí a conversa é um pouco diferente va bene grazie di cuore buona notte grazie Paula Paula ti sto aspettando per la prossima lezione di conversazione va bene proviamo di farla un po' più tardi grazie ragazzi Monica pra turma di junio que vai abrir a gente vai mandar lá no grupo de whatsapp daiana inclusive a gente pode fazer o seguinte agora pessoal cliquem agora vamos fazer assim já vou abrir aqui essa exceção tá vou abrir essa exceção pra quem quiser entrar no grupo agora no grupo da retomada italiana tá ó vou deixar o link aqui pra vocês acessarem o grupo da retomada italiana d'accordo Jennifer com certeza a gente vai te chamar também grazie ragazzi cliquem no link aqui pra entrar quem não é aluno quem não é aluno clica aqui embaixo va bene ciao grazie Laura grazie mille prof no facebook tô fazendo marketing pro italiano fácil fico muito feliz grazie mille buona notte ragazzi tchau tchau